La Democrazia in America è una mostra che racconta alcune storie italiane dal 1950 ad oggi, attraverso l'opera di cinque artisti. La suggestione è data dalla Democrazia in America, un saggio paradossalmente scritto da un pensatore francese, Alexis de Tocqueville, descrivendo la cultura americana. È uno strumento tuttavia da sempre radicato nella storia della cultura italiana, a partire dal quale gli artisti, coinvolti nella mostra, hanno sviluppato le loro cinque opere, presentate oggi in mostra. Grazie a tutti.